Tutte le mazzate le aveva affortunato, vanno fuori papà, che si stanno a pulire un passaggio fanno in casa, se no quando scappiamo c'è cacchiamo, finiamo tutto l'entrò, adesso ho capito perché il marito si è scappato via da casa, con il matto c'è un po', un colore pura nè ce l'hanno andata, e mette le foto dopo un falco, oh la nè, a te ne venirei 7 metri, con tutti gli animali stanno sotto e stanno sotto e vanno a prendere un po', che dici c'è quello, c'è vera, a fare un ambronto di un animale, una papara, però è più grosso, c'è, sarà un pinguino, se non si scappa con questo tempo, c'è Alessandra, ma che state fai, lo vedi pure, è tanto quanto ti faccio a toccare, guardate come pensare, c'è te, il pupazzo, ma che fatti dei pupazzi perché non c'erano tanti sul governo, c'è un pupazzo pupazzo, sì, guardate, mi metto e metto e faccio, che mi hai tirato, che è questa? Ah, questa gliela fico, eh sì, il naso, ma che naso, questo pare più un cozzo, no? Guardate, mi posso metterlo e faccio il pupazzo, che mi state tirando, questo ve lo spaventa, il pupazzo, però, cos'è? Adesso, fermetemi, non vedete la roba, devo fare questo pupazzo, ma pugnati pure, però, potreste scappare, eh? Non è che... Adesso, voglio ve lo faccio, questo pupazzo, eh? Sbattuè, ma ecco, c'è una bucana mia, a ridere, che c'è ben fatto, tenete pure pugnati, no? Sì, va con la dosta strada, vuoi togliere il cappello, che mi pensa a metterli, c'è? Toglio pure paura, perché cambia, però, ma con la dosta più, più, a me fa porco, io tanto non capivo, eh? Pulivate il pupazzo di neve, eccolo qua, vedi? Che bello pupazzo di neve, ridete, 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 condinete, ridete, condinete, ridete, condinete, ridete, eccolo, ah, decocciò!